Il test invece che nonostante siano passati tantissimi anni, cioè quasi 30, continua a fare e dà sempre dei risultati abbastanza attendibili al test di Conconi. Dico abbastanza perché chiaramente non è preciso come test dell'attato, però dopo averne fatti tanti riesco a interpretare e a capire tante situazioni che emergono dallo studio delle pulsazioni che si muovono in relazione all'aumento della velocità. Anche questo è un test d'accampo, lo si esegue facendo dei tratti di 100-200 metri a velocità progressiva dove viene registrata la velocità di ogni singola prova e le pulsazioni. Alla fine anche in visio e l'abonografia si determina un punto cosiddetto di deflessione che corrisponde appunto alla velocità di deflessione e anche alle pulsazioni di deflessione. Questo chiaramente diventa poi un punto fondamentale per cercare di determinare l'allenamento. Altri test che vengono fatti, più empirici ancora, sono i test dei 3000. Si tratta di correre un 3000 alla massima velocità e dopo aggiungendo a questo 3000 un 10% si riesce a tenere con una certa approssimazione una velocità che è molto simile alla velocità di riferimento. Ovvero, intendendo per velocità di riferimento sia la velocità di deflessione che otteniamo nel test di Conconi sia la velocità di soglia anaerobica che otteniamo con il test dell'attato. Ripeto che sempre con una certa approssimazione. Altro test semplicissimo che si fa, semplicissimo perché è empirico, anche questo è la famosa orampista che ora viene fatta sempre meno. Però l'orampista dà anche questa dimensione di quella che corrisponde alla velocità di riferimento, ovvero la velocità di soglia anaerobica e la velocità di deflessione. Il problema delle teste da campo fatti sui 3000 metri oppure sull'orampista è cercare di partire a una velocità tale che non sia troppo elevata. Perché se si parte in modo troppo elevato dopo si rischia e la prova venga un po' falsata perché c'è un rallentamento che potrebbe cercare di evitare. Quindi per fare questi test il soggetto deve essere un pochino addestrato a correre a ritmi diversi.